Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale In manetta è un 53enne con il pollice verde per la marijuana coltivata in casa Due banditi rapinano un portiere di notte in servizio in un albergo di Montecchio nel comune di Vallefoglia Il lodo Serafini arriva in consiglio comunale a Fano Il PD parla di tegola pesante per il comune ma scarica le responsabilità sull'amministrazione precedente Il sindaco di Pesero Ricci conferma al carnevale di Fano sfilerà un carro dedicato a Rossini E sarà interamente finanziato da un fondo speciale per l'evento Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia Nel 2015 finì in carcere per detenzione e coltivazione di piante di marijuana Oggi dopo un controllo dei carabinieri è stato pizzicato di nuovo e arrestato per lo stesso motivo Nonostante il carcere per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti Un uomo di 53 anni di San Giorgio di Pesero una volta in libertà è ricascato nello stesso reato L'uomo nel 2015 fu arrestato dai carabinieri perché aveva allestito in casa una serra per la coltivazione della marijuana E' trovato con 5 chili della stessa sostanza essiccata e 32 piante adulte da recidere I carabinieri all'epoca si erano insospettiti per via dei consumi anomali di corrente elettrica A fronte del fatto che l'uomo vivesse da solo e in uno stato di degrado totale Dopo essere uscito dal carcere ha allestito nuovamente una serra per riscaldarla Però ha deciso di installare pannelli solari evitando così i consumi sospetti Anzi per eliminare del tutto il problema nel luglio scorso aveva disdetto il contratto di fornitura elettrica Anche in questo caso però la scelta in materia si è dimostrata infelice I militari passando davanti alla casa hanno visto l'immobile illuminato così come la serra sul retro E dopo una breve verifica con il fornitore di energia elettrica I carabinieri hanno deciso di vederci chiaro e si sono presentati sulla soglia di casa L'uomo ai militari ha mostrato l'impianto fotovoltaico pensando di chiudere in fretta il controllo Cosa però che non è avvenuta e i carabinieri hanno controllato l'intera abitazione Scoprendo ben presto così uno scenario esattamente identico a quello individuato due anni prima Al piano superiore c'erano le piante di marijuana appese in via di essiccazione Nel garage otto piante mature trasferite dalla serra a causa dei primi freddi in attesa di essere recise E nella serra esterna era stato riallestito un impianto completo Mentre in giro per la casa nascosti un po' ovunque vi erano sacchetti e sacchettini di marijuana pronti per essere venduti Complessivamente sono stati sequestrati dagli uomini dell'arma 600 grammi di marijuana, otto piante e attrezzature varie Il 53enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Il 53enne così è stato tratto in arresto in flagranza di reato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti In mattinata nel tribunale di Pesaro dopo la convaida l'uomo ha patteggiato una pena ad un anno di reclusione e 3.000 euro di multa Tornando così immediatamente in libertà Nel quartiere di San Lazzaro a Fano, nelle prime ore di oggi pomeriggio C'è stato un intervento interforza in una palazzina di via Cellini Una donna di origine caraibiche ha chiamato i carabinieri dopo l'ennesima lite con un conoscente albanese All'arrivo dei militari, la donna dopo aver accusato l'uomo di avergli sottratto degli oggetti Ha dato in escandescenza e sono dovuti intervenire i rinforzi La donna, residente ormai da diversi anni in una palazzina pian terreno, non è nuova a questo tipo di atteggiamenti Anche violenti ed è nota alle forze di polizia intervenute anche in passato per gli stessi motivi Dopo alcuni tentativi di ricondurla alla calma Si è fatta accompagnare volontariamente in ospedale per accertamenti nel reparto di psichiatria Dopo un breve colloquio è stata dimessa Rapina a mano armata la notte scorsa all'hotel Blue Arena a Montecchio nel comune di Vallefoglia Due malviventi senza particolari inflessioni dialettali, armati di pistole con volto travisato da un foulard colorati Si sono introdotti all'interno dell'albergo e sotto minaccia hanno costretto il portiere notturno a consegnare una somma di circa 340 euro I due si sono poi dileguati nelle vie circostanti Indagano i carabinieri della stazione di Montecchio-Vallefoglia e del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Pesaro Pochi giorni fa, sempre a Montecchio, era stata messa a segno una rapina ai danni di una banca 8 persone tra clienti e dipendenti erano state rinchiuse in uno stanzino Anche in questo caso due rapinatori sono entrati in azione, fuggiti poi con un bottino di circa 30.000 euro Torniamo a Fano perché c'è stato un incidente stradale sulla Flaminia all'altezza di via Forcolo Poco dopo mezzogiorno una BMW condotta da un 23enne Moldavo che procedeva in direzione mare mentre stava svoltando a sinistra La direzione era Maremonte mentre stava svoltando a sinistra Probabilmente a causa di una mancata precedenza si è scontrato con una Opel Mocca proveniente dalla direzione opposta guidata da una donna di 50 anni di cartoceto rimasta ferita lievemente e trasportata in codice giallo al pronto soccorso Santa Croce di Fano a bordo del 118 Sul posto anche una pattuglia dell'infortunistica della Polizia Locale di Fano I lavori di bonifica sono fermi a causa di alcune infiltrazioni di idrocarburi nel terreno ma il dibattito su che cosa fare sulla destinazione d'uso dell'area dove un tempo c'era il distributore dell'Agip prosegue Area ex Agip, una cosa è certa, quale che sarà il suo destino finale, giardino, parcheggio, nodo di scambio non sarà a breve che lo vedremo La vicenda andrà per le lunghe e le diverse forze politiche d'opposizione hanno acceso sul cantiere i loro riflettori per vederci chiaro su questa pratica che doveva essere sbrigata in poche settimane e che invece ora per una questione di inquinamento ambientale si è arrenata totalmente Una possibile destinazione d'uso diversa da quelle fin qui espresse in considerazione del verde pubblico o parcheggio auto potrebbe essere una zona a vantaggio della mobilità sostenibile Ad avanzare queste ipotesi il Movimento 5 Stelle di Fano che stasera in consiglio chiederà l'UMI anche sull'inquinamento ambientale dell'area Certo, allora adesso ci sarà una prima fase che si chiama piano di caratterizzazione attraverso il quale la ditta fornerà tutti i dati a disposizione per capire qual è la situazione di inquinamento della zona Questo impiegherà circa due mesi almeno per essere redatto Poi il Comune dovrà approvare questo piano A questo punto se il Comune avesse saputo che cosa farne di quest'area avrebbe potuto approvare una cosiddetta analisi di rischio e cioè far sì che ci sia un progetto di messa a posto della zona in modo che, non so, magari se ci fosse stato un parcheggio certi valori limite avrebbero dovuto essere sopra una certa soglia o sotto una certa soglia oppure se avessero intenzione di fare un parchetto avere altri tipi di limiti da rispettare Ecco, tutto questo non c'è purtroppo ci regna una gran confusione da parte della Giunta e del Sindaco Seri Allora a questo punto saranno costretti a fare una bonifica totale della zona che richiederà sicuramente molto più tempo molto più, anche più soldi sicuramente per azzerare quasi praticamente i limiti di inquinamento quindi purtroppo paghiamo l'indecisione della Giunta fanese perché appunto questo allungherà sicuramente i tempi la macchina dovrà essere molto più complessa E il Consiglio Comunale di Fano questa sera dovrà deliberare sulla questione legata agli 850 mila euro da versare alla ditta di costruzioni Serafini dopo la sentenza della Corte d'Appello ma il PD Fanese scarica la responsabilità di questo pasticcio burocratico sulle amministrazioni precedenti Allora, Lodo Serafini, questa sera una votazione in comune è un passaggio cruciale di questo momento politico della città Certo, io direi che innanzitutto una tegola su questa amministrazione perché è arrivato non in maniera inaspettata perché comunque sapevamo che prima o poi sarebbe arrivata la sentenza ma questo in qualche maniera ci blocca una serie di investimenti che avevamo previsto sulla città soprattutto dal punto di vista sportivo e anche a livello infrastrutturale che comunque ci mette un po' in difficoltà non lo nascondiamo però vorrei evidenziare e ricordare che questo Lodo Serafini questo pagamento di questa sentenza viene da lontano viene da lontano 2003 dove era stato dato un permesso a costruire una zona di rispetto in maniera a volte cioè che uno dice anche in maniera anomala perché è proprio a ridosso di uno svincolo e insomma lascia un po' perplessi la scelta di allora e quindi dal 2003 si è trascinato fino al 2008 che c'è stata la sentenza di primo grado poi con una serie di ricorsi il ricorso all'appello si è cercato di bloccare tant'è si è chiesta inizialmente una sospensiva e c'è stata negata poi una fiduzione a copertura del pagamento c'è stata negata anche questa e ci troviamo in una situazione attuale a dover pagare colpe che evidentemente non sono nostre Ecco, tutto nasce nel 2003 a questo punto qual è l'iter? cioè che cosa avete intenzione di fare per comunque poter rivalervi se è il caso di rifarlo? Innanzitutto occorre pagare perché qui c'è una sentenza del tribunale e dobbiamo pagare non possiamo esimerci aspettiamo la sentenza della Cassazione che non sappiamo a quando verrà a quel punto poi ci sarà la Corte dei Conti che dovrà certificare eventuali responsabilità nei confronti della parte tecnica amministrativa e dopodiché dovremo fare i dovuti ricorsi nei confronti sia dei personaggi che comunque hanno avvallato certe scelte che anche forse dell'ANAS che inizialmente non aveva negato l'edificabilità se la Cassazione vi dà ragione però riprendersi soldi dall'azienda diventerà un problema anche quello infatti si era chiesto una fiduzione proprio per questo ci auguriamo che si tratta di un'azienda seria il patrimonio sembra che ci sia copertura di questa questione di questa trattativa e vediamo un po' se riusciremo poi a recuperare queste risorse che per noi sono oro colato Torniamo un attimo alla cronaca un lavoratore è rimasto ferito nello stabilimento della Fiorini International in via maestri del lavoro condotto da un collega tra le scaffalature all'interno dell'area produttiva il mezzo del peso totale di oltre 30 quintali è praticamente passato sopra il piede e la caviglia di un 44enne di nazionalità italiana sul posto il 118 poi è intervenuta anche l'eliambulanza che ha portato il ferito all'ospedale di Torretti ed è ancora ferito che però ferito che l'uomo risiede a Trecastelli ma non è in pericolo di vita l'associazione sportiva Energy Club organizza con la collaborazione del comitato regionale Marche Mivas e il patrocino del comune di Mondolfo un corso intensivo di difesa personale gratuito che si terrà dalle 20 alle 21.30 nella palestra di via Fantini a Marotta all'interno della scuola media FA di Bruno e a Fano invece il jump i corsi estivi dedicati allo sport sono stati un successo un successo talmente grande che gli organizzatori hanno deciso di fare jump anche in versione invernale tenuta con due mani ok? tenuta con due mani allora il jump è una realtà fanese ma non solo insomma chi siete? cosa fate? perché? come? allora sì il centro estivo jump è il centro estivo sportivo dove troviamo appunto istruttori qualificati preparati che mettono tutto il loro impegno per far per insegnare far divertire comunque ai bambini e ai ragazzi attraverso gli sport e i giochi che vengono proposti durante tutta la giornata non si può tirare in faccia chi tira in faccia lo butto fuori lo mando fuori dal campo allora quali sono le offerte sportive che potete proporre e dove si possono praticare? allora sì il centro estivo ovviamente è a carattere sportivo e quindi tutti i bambini hanno la possibilità di provare un pochettino tutti gli sport da quelli più presenti nel territorio fino anche agli sport un po' più sconosciuti i centri estivi sportivi si trovano un pochettino in tutta Fano e i centri più famosi sono quello di Bagni Carlo della Trave al campo da rugby e di Sant'Orso poi abbiamo anche Carrara Itaca San Lazzaro molti mini jump e siamo sparsi anche fuori Fano con il centro di Senigallia Monteporzio Cappone e Sant'Angelo sicuramente la forza dei centri estivi jump è il numero quest'anno siamo riusciti ad arrivare a 1.003 iscritti e quindi questo ci permette di offrire sempre più centri disponibili per le famiglie e per i bambini giallo 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 guarda 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 l'estate passata però questo non vuol dire che voi cessate la vostra attività voi siete attivi tutto l'anno 12 mesi all'anno estate e inverno sì sì certamente noi siamo già ripartiti con le attività invernali per i più piccolini abbiamo il gioca sport che è attività motore e formazione sportiva per i bambini sia della materna che delle scuole elementari fino ai 10 anni è attivo il corso di dodgeball di bocce badminton e tantissime altre attività anche per gli adulti quindi anche per i genitori e per i nonni dove si può contattare per vedere le vostre attività o i luoghi dove iscriversi? ci potete contattare nelle pagine della Sportfly SD su Facebook o anche le pagine appunto di ogni attività quindi dodgeball badminton gioca sport sono tutte cioè insomma ci trovate su Facebook e poi c'è una segreteria che è aperta lunedì e mercoledì alla noti dalle 4 alle 7 e il giovedì sempre stesso orario alla Venturini e ovviamente c'è anche il numero che appunto potete chiamare e vi risponderà la ragazza della segreteria allora dunque Matteo Ricci al nostro telegiornale Occhio alla Notizia oggi pomeriggio ha confermato che il Comune di Pesaro ha richiesto all'ente carnevalisca e ai maestri carristi di realizzare un carro tutto dedicato a Gioacchino Rossini Sindaco allora Rossini si appresta ad essere celebrato in grande pompa magna voi siete molto con la prua della nave sulla rotta giusta Sì è una grande opportunità è una grande opportunità per l'Italia perché Rossini è stato scelto nel 2018 per promuovere la bellezza e la cultura italiana nel mondo in un programma quadriennale che poi vedrà nel 2019 il puntare su Leonardo da Vinci nel 20 su Raffaello nel 21 su Dante Alighieri quindi siamo molto contenti che questo anniversario abbia contribuito anche a sviluppare una strategia nazionale in più sarà una grande opportunità di sviluppo per il nostro territorio perché noi siamo la città della musica in generale tutta la regione Marche ha una grande offerta culturale e quindi il 150esimo di Rossini sarà un modo per portare le Marche nel mondo e il fatto che siano state approvate negli ultimi due settimane due norme molto importanti la prima stanza è un milione di euro per il museo rossiniano che è l'investimento vero che faremo che durerà negli anni grazie alla collaborazione della fondazione a cassa di risparmio che ci metterà ci darà in concessione il piano nobile del Palazzo Antaldi quindi un luogo bellissimo che già ospita che già ha un museo e che diventerà il museo di Rossini quindi una cosa molto importante per gli anni come traino per il turismo e altri 700 mila euro stanziati ieri grazie all'impegno della senatrice Fabri con la legge speciale che ci consentiranno insieme a quelle degli sponsor e ad altre risorse che speriamo possano arrivare dalla regione di investire molto in eventi e in comunicazione e quindi veramente un grande anno e ci apprezziamo ad avere un grande anno le celebrazioni ufficiali c'erano novembre 2018 ma già dalla data di compleanno di Rossini che è nato il 29 febbraio quindi in base agli anni festeggiamo il compleanno il non compleanno e già dalla fine di febbraio si avvieranno le celebrazioni e quindi stiamo lavorando per definire il meglio programma c'è anche come dire un coinvolgimento di tutto quello che è il territorio il tessuto insomma economico sociale della provincia pensiamo al carnevale di Fano che ospiterà proprio un carro a tema con Rossini è una realtà questa cosa si stiamo cercando di coinvolgere tante realtà del nostro territorio abbiamo fatto un accordo con Acqualagna sul tartufo perché è uno dei progetti raccontare Rossini gourmet quindi Rossini appassionato di cibo e abbiamo fatto l'accordo con Apecchio sul tema della birra lo abbiamo fatto con Offida sul tema del vino lo vorremmo fare anche con tutti i produttori di Bianchello del nostro territorio e ovviamente nella collaborazione generale che abbiamo con la città di Fano non poteva mancare la collaborazione con il carnevale stanno lavorando alla creazione di un carro che da quello che ho visto è fantastico e quindi stiamo definendo l'accordo tra noi e il comune di Fano e la carnevalesca affinché il carnevale promuova Rossini e Rossini promuova il carnevale del resto il carnevale di Fano è una delle attrazioni principali dell'inverno di tutta la regione Marche uno dei principali carnevali italiani e quindi questa collaborazione ci sembrava naturale e secondo me rafforza ulteriormente anche l'amicizia e la collaborazione tra le due città e noi ci salutiamo adesso con questa fotografia che ci ha inviato il nostro un nostro telespettatore chiaramente è per strapparvi un sorriso cari telespettatori il messaggio che accompagna questa fotografia è il canale Albani da Osi a Palude a Palude qualcuno ha voluto appunto ironizzare con questo coccodrillo che poi è stato catturato e liberato rilasciato sul Nilo questo per dire insomma che la situazione del canale Albani è ancora lì senza acqua anzi con qualche pozza qua e là che sembra proprio una mezza Palude con tutta la vegetazione che nel frattempo è cresciuta dentro insomma questa è la situazione allora noi ci salutiamo ci fermiamo con il telegiornale dopo di noi c'è Box i personaggi di Fano poi in cucina con lo chef e questa sera uno speciale sulle attività jump di cui abbiamo parlato anche nel corso del telegiornale l'informazione torna puntuale però domani mattina alle 7.30 in diretta sempre qui sul canale 17 con la rassegna stampa occhio ai giornali a voi tutti l'augurio di una buona serata grazie a tutti